Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Non esagerare. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Bisogna sempre essere corretti e nel mondo mostrare cordialità. Un atteggiamento retto non farà mai male, anzi ci arrecherà beneficio e ci donerà armonia e bontà. Dobbiamo sempre essere educati in ogni situazione mostrando gentilezza, attenzione e buone intenzioni. Non bisogna esagerare negli atteggiamenti, bisogna dare il giusto peso alla giusta misura. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Non esagerare. Sii sempre corretto e nel mondo mostra cordialità con un atteggiamento retto ricco di armonia e bontà. Sii sempre educato in ogni lieta situazione e con atteggiamento serio mostra sempre buona intenzione. Non esagerare negli atteggiamenti, porta sempre reale rispetto e vedrai i complimenti che ti pioveranno da ogni tetto. Sii sempre disponibile a migliorare il mondo per renderlo più amabile e ricco di amore fecondo. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.